Alla luce degli ultimi fatti di cronaca, con risse ed aggressioni registrate a Chieti Scalo e Lanciano, il prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, insegnatosi da appena tre settimane, ha convocato nel pomeriggio di ieri il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di dare un'immediata risposta. Il prefetto, al termine dell'incontro, ha chiesto ai rappresentanti delle forze dell'Ordine maggiori controlli soprattutto nel fine settimana e nelle zone della Movida, mentre ha esortato i sindaci del territorio ad investire maggiormente nella Polizia Locale. Noi abbiamo raggiunto un notevole numero di telecamere nella nostra città, per cui sono visionate dalla Polizia di Stato e prossimamente anche dai Carabinieri e dalle altre forze dell'Ordine. È chiaro che noi sindaci non abbiamo competenze sulla sicurezza nelle città, però possiamo contribuire e fare la nostra parte. Sio Sindaco, ma a Lanciano si può parlare di emergenza sicurezza oppure eccessivo? Ma guardi, dipende se lo paragoniamo. Se lo paragoniamo nella grande città, secondo me non possiamo parlare di emergenza. È necessario essere presenti, capire da dove viene questi episodi, quali sono la fonte, quali sono le cause, identificare le persone, isolarle, proprio perché se si colpisce all'inizio probabilmente si colpisce meglio. Bene, le telecamere, ha sottolineato il prefetto, ma corrono maggiori controlli e i rappresentanti delle associazioni di categoria. È stato chiesto, ognuno per le proprie competenze, di fare la propria parte. Cominciamo ad avere delle preoccupazioni anche come esercenti, non solo per gli ultimi accadimenti nei pubblici esercizi, soprattutto la sera per la Movida, ma anche per i furti che si susseguono dentro i negozi, ma anche per le denunce che riceviamo degli anziani che vengono truffati dentro le loro abitazioni. Quindi comunque è necessario, come dire, alzare l'asticella dell'attenzione su questa problematica e per questo ringraziamo il prefetto per questa sensibilità e per questa convocazione. E intanto il Comune di Chieti, come primo provvedimento, ha annunciato che sarà emanata un'ordinanza con la quale sarà vietata la vendita di bevande in lattina e in vetro dalle ore 20 alle ore 6, da oggi, venerdì 25 ottobre, fino al 25 aprile dell'anno prossimo, nelle zone maggiormente frequentate dai giovani. Sicuramente è un impegno anche per gli esercenti. Tutto ciò che diventa prescrizione diventa, come dire, più faticoso per l'esercente gestire le serate. Però certamente è un deterrente. D'altra parte, se vogliamo arginare questi fenomeni, che siano le bottiglie, che siano le telecamere o altre, come dire, decisioni, provvedimenti, tutto ciò può contribuire ad una felice soluzione della problematica.